Tappa a Bilbao, al Guggenheim Museum, un'astronave piombata in questa città che ha vissuto una vera e propria rivoluzione con l'arrivo di questo museo che ha attirato intorno a sé artisti, architetti, designer, per cui la città è letteralmente rinfiorita. Prima era una grigia di città industriale, adesso è diventata veramente uno dei centri mondiali della cultura, dell'arte e del design. Una struttura incredibile del Guggenheim Museum fatta completamente in titanio, che cambia colore al variare della luce del giorno. Andiamo a visitarlo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.